Il contesto è un'ottima partita contro una squadra di una categoria superiore, molto attrezzata, molto preparata anche fisicamente, è andata bene, è una buona vittoria, è faticosa, però è una bella vittoria. Sono stato definito il jolly, appunto per questi cambi centrocampista, terzino, destra, sinistra, mezzala, esterno, io salto di qua e di là, io gioco dove chiede il mister all'occorrenza della squadra. Grazie, grazie. Sia personalmente che come squadra? Beh, personalmente spero di giocare le più partite possibili, come ho detto prima, sempre a disposizione della squadra e del mister, per la squadra speriamo di migliorare molto le nostre ultime due quinte posizioni, speriamo bene.